Stefano De Martino dimentica finalmente Belen con una nuova fiamma. Lei si chiama Fortuna, ecco le foto della nuova coppia in barca Stefano De Martino, archiviata la storia con Belen Rodriguez, era riuscito a non farsi pizzicare più con nessuna durante l'estate, ma a cambiare la situazione ci pensa una foto in barca con la nuova presunta fiamma, Fortuna. Leggi anche, De Lellis, De Martino e Cecilia Rodriguez, triangolo ad alta quota Stefano De Martino e Belen, è finita? Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati prima dell'inizio dell'estate, con grande dispiacere dei fan e quanto pare anche dei diretti interessati. Mentre Belen ha già cambiato due partners durante l'estate 2020, Gianmaria Antinolfi e Antonio Spinalbanese con cui starebbe attualmente, Stefano De Martino è stato beccato solo una volta in compagnia di Mariana Rodriguez, con la quale sarebbe durata il tempo di un'uscita in barca. Da quanto riportato dal settimanale Chi, Stefano avrebbe tentato di riconquistare la ex moglie in vano. Forse stanco dei numerosi rifiuti, ha deciso di voltare pagina con la nuova ragazza con cui è stato paparazzato sulla sua barca. Il nome del nuovo presunto flirt lascia ben sperare, la ragazza di chiama Fortuna. Stefano Parazzato con Fortuna il settimanale gente a paparazzato Stefano De Martino, dopo la rottura con Belen, in compagnia di una bellissima ragazza di nome Fortuna. Ecco cosa ha riportato il magazine sulla ragazza, e ha poi proseguito con la presunta nuova situazione sentimentale del ballerino dopo Belen e la descrizione dello scatto inedito con il nuovo flirt, foto di gente foto di gente foto di gente foto di gente foto di gente. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.